e per chi vuole ho pensato di fare proprio un evento online in cui andremo a dissolvere quelle che sono e le mancanze le situazioni di rabbia se per caso ti trovi in una situazione di mancanza con magari ripetuti che si ripetono degli eventi vorrei creare proprio un evento online dove andremo a fare proprio una pratica e dopo andremo a riprodurre le nuove consapevolezze attraverso la tela quindi è un ottimo connubio per fare pratica nel corpo e rendere consapevoli di cosa l'inconscio ci sta inviando e cosa noi nel nostro corpo creiamo nella vita attraverso proprio uno strumento che è quello della che è quello della tela e l'evento avrà un costo di 25 euro e concorderemo quello che è la data e dovrai semplicemente procurarti se è possibile una tela la puoi andare anche ad acquistare in un negozio anche di cose orientali lì non puoi trovare delle tele a poco se è possibile prendi le dimensioni che gradisci ma se vuoi preferire il 50 per 70 tutte le colorazioni che vuoi quindi colori matite e se ti piacciono colori acrilici che sono molto utili perché sono fluidi hanno una buona colorazione e sono facili comunque da una colorazione facile da utilizzare ma segretisci brillantini oppure quello che ha magari legni tutto ciò che vuoi applicare sulla tua tela quindi prendi contatto tutti quelli che sono gli strumenti proprio di lavoro e l'unica cosa avrai bisogno di uno spazio per te sacro proprio se vuoi puoi anche creare una purificazione con delle erbe seccate e le lascio proprio nell'ambiente andranno a disalvere quelle che sono le energie pesanti e andremo a fare questa meditazione che davvero andrà a lavorare nel corpo ci andremo a radicare quelle che sono con le nostre radici e con il nostro momento proprio della nostra creazione sarà un buon momento per chi vuole vuole creare questo momento per sé proprio per cullarsi